Termina il sogno dell'Under-14 Von Leibisignano, ma rimane ugualmente la soddisfazione per aver raggiunto un traguardo così importante. La giovane squadra, allenata da Alessandro Iaquinta, è stata infatti sconfitta qualche giorno fa e rende dalla San Giovanni in Fiore per 3-0. Nel primo set, dominio dei Silani, che hanno vinto il parziale sul 25-14. La squadra cratense si è poi leggermente ripresa, pur non evitando la sconfitta per 25-17. Nel terzo set invece c'è stato un maggiore equilibrio, ma i Silani sono stati bravi a chiudere sul 25-20. Rimane comunque la soddisfazione per un gruppo Andre-14 che potrà solamente crescere e migliorare, ben supportato anche dai tanti supporter bisignonesi arrivati in quel dirente. Soddisfatta la dirigenza del presidente Lino Moddio, nonché tutti i dirigenti e i tecnici che vedono giorno dopo giorno migliorare l'intero progetto.